problemi di formazione per mister sottili alle prese con infortunie squalifiche che hanno falcidiato la rosa dell'arezzo 433 o 442 sono queste le opzioni al vaglio di sottili andare avanti con una punta centrale con due sterni larghi oppure puntare sul tandem polidori erpen un dilemma che sarà sciolto nelle prossime ore al termine della rifinitura in programma domani pomeriggio a porti chiusa all'interno del comunale le certezze al momento sono purtroppo rappresentate dagli assenti arcidiacone luciani non si sono allenati nemmeno oggi con il gruppo solini e moscardelli sono squalificati benassi con radia e yanga hanno svolto un lavoro personalizzato ecco allora che una difesa formata da masciangelo milesi sirri e sabatino è più di un'ipotesi se il centrocampo poi dovesse essere a quattro troverà conferma l'esperimento con foglia de feudis con radio rosseti condursi a sinistra l'attacco in caso di 442 poggerà su erpen alle spalle dell'unica punta rimasta a disposizione alessandro polidori se invece sottili dovesse scegliere 433 grossi e berzotti si posizionerebbero sugli esterni a supporto del centravanti domani pomeriggio alle 15 ultimo allenamento al città di arezzo a porte chiuse prima della partenza prevista per sabato mattina verso roma da lì la prima squadra si marcherà sull'aereo che porterà l'arezzo in sardegna